Tutorial sportello privati emergenza Livorno. C'è tempo fino al 7 dicembre per richiedere il contributo sociale che la Regione Toscana ha messo a disposizione in seguito all'alluvione del 9 e 10 settembre a Livorno, Colle Salvetti e Rosignano Marittimo. Ecco come procedere con la compilazione delle domande. Il signor Giuseppe Bianchi, che ha già presentato la richiesta di cognizione danni con la scheda B, vuole presentare domanda per il contributo della Regione. Ha subito danni all'abitazione di sua proprietà, all'auto, alla moto intestata alla figlia che appartiene al suo nucleo familiare, al garage e a tutto quello che conservava al suo interno. Il signor Bianchi, per inserire la domanda online, dovrà avere a disposizione i seguenti dati. Codice fiscale, protocollo della scheda B, codice IBAN, banca, agenzia e intestatario del conto, dati catastali dell'immobile, foglio, particelle e subalterno. E i seguenti documenti in formato PDF. Copia carta di identità, copia della certificazione ISEE, fattura riparazione auto, fattura riparazione moto, libretto di circolazione sia dell'auto che della moto, atto di proprietà sia dell'auto che della moto. Il signor Bianchi si collega a HTTPS, due punti doppio slash sviluppo.toscana.it slash alluvionelivorno. Inserisce il proprio codice fiscale e lascia bianco il campo password e clicca su accedi. Si aprirà una nuova maschera in cui deve essere inserito nome, cognome, mail e password, conferma password. Deve essere allegato il file PDF della carta di identità cliccando sul bottone sfoglia. Infine clicca su accetto trattamento dati personali e clicca su accedi. Rientra sul programma inserendo codice fiscale e password. Nel frattempo avrà ricevuto una mail con la comunicazione che è stato registrato un account e nella stessa mail sarà riportata la password utilizzata. Si aprirà la scheda dati anagrafici, nome, cognome, il codice fiscale automaticamente caricato, luogo di nascita, data di nascita, città, indirizzo, numero civico. Dovrà essere compilata la composizione del nucleo familiare con esclusione del soggetto che sta presentando la domanda. Deve essere caricato nel programma il file PDF dell'Isee tramite il bottone sfoglia. Inserisce nel campo sottostante l'importo dell'Isee. Inserisce i dati dove vuole ricevere eventuali comunicazioni. Inserisce i dati bancari IBAN, banca, agenzia e intestatario del conto. Clicca su salva. Si apre la seconda schermata danni subiti. Clicca su beni immobili che costituiscono abitazione stabile e continuativa del presentatore la domanda, autoveicoli registrati ad uso privato, motoveicoli registrati ad uso privato. I danni al garage non rientrano tra le spese ammissibili al contributo sociale per cui non possono essere inseriti. Indicare le schede B che sono state presentate con riferimento ai danni subiti, ad esempio la propria per l'immobile, cliccando su me stesso e inserendo il relativo numero di protocollo. Nella riga sottostante quella presentata dalla figlia inserendo nome, cognome, luogo di nascita, data di nascita, titolo, grado di parentela, numero protocollo e data di protocollo. Clicca su salva. Si apre la terza schermata beni immobili e mobili dell'abitazione. Inserisce i dati dell'immobile, indirizzo, via e civico, comune dove è accatastato l'immobile, foglio, particella e mappale. Conferma la conformità dell'immobile cliccando sull'apposito spazio, campo titolarità dell'immobile, clicca su proprietario dell'immobile. Campo utilizzo dell'immobile, clicca su residenza principale del presentatore della domanda. Inserisce l'importo dei danni subiti che dovrà corrispondere al massimo a quello indicato nella scheda B e sarà definito sulla base dei danni ammissibili a contributo, ossia danni all'abitazione e non alle pertinenze quali cantine e garage. Inserisce l'importo dei danni agli impianti funzionali all'abitazione. Clicca su salva. Si apre la quarta schermata auto, moto e cicloveicoli. Inserisce i dati della propria auto, ossia tipo, marca, modello, targa, anno di immatricolazione, nome e cognome del proprietario, il giorno dell'evento dove si trovava. Allegare. Cliccare su il veicolo è stato riparato presso l'officina. Inserire nome officina, l'importo della fattura, numero e data fattura e con il pulsante sfoglia carica la fattura in pdf. Carica il libretto di circolazione in formato pdf. Carica l'atto di proprietà in pdf. Relativamente alla moto della figlia, compila il secondo campo con i medesimi dati. Clicca su salva. Si apre la quinta schermata allegati, dove è possibile allegare altri documenti utili alla domanda, ma in questo caso non servono. Clicca su salva. Si apre la sesta schermata presentazione domanda. Potrebbero comparire degli errori di compilazione nel caso si può tornare alle schermate precedenti e correggere. Premere su, premere qui per la visualizzazione della domanda. Si apre la domanda a video, il signor Bianchi la controlla e chiude l'anteprima. Torna alla schermata e clicca su premere qui per scaricare la domanda e stamparla. Firma la domanda in calce e la scannerizza in un unico file pdf. Torna alla schermata presentazione della domanda, clicca su sfoglia e carica la domanda firmata. Clicca su salva. Da questo momento non è più possibile modificare la domanda. Apparirà l'ultima schermata con riportata la data di presentazione e l'ora. Se il signor Bianchi ha bisogno di sospendere l'inserimento della domanda, lo può fare, ma non deve fare l'ultimo passaggio, comunque dovrà completare il tutto entro il 7 dicembre.